Sempre una grande emozione vedere tutti questi ragazzini perché rivedo sempre in me il quindicenne, il sedicenne che iniziava questi tornei sulla sabbia e non pensava che poteva arrivare fino a qui e poi vederli così tutti di rosso e blu quest'anno è per il cuore una emozione fortissima e come diceva tutta la società c'è stato un grande lavoro dietro per arrivare a tutto ciò siamo partiti 4 anni fa con il progetto Academy dove l'ho sponsorizzato in prima persona sempre in collaborazione con la San Mettese e siamo arrivati ad oggi che abbiamo quasi di più di 100 iscritti ma come diceva ancora la società abbiamo portato ragazzi in prima squadra abbiamo creato squadre under 15 e under 17 maschile e femminile e ci sono tanti altri progetti che vorremmo continuare a svolgere e niente tanta fatica, tanto lavoro che però viene sempre ripagata da vedere la gioia di questi ragazzi giocare e correre sulla spiaggia e prima di chiudere volevo consegnare una maglia speciale a un amico speciale che io penso che a parte lo staff sono il più vecchio a livello di storia in questa società e insieme a me c'era sempre stato un amico mio che è Matteo il nostro primo tifoso quindi c'ho questa maglia che è per te Teo te la meriti tutta grazie a tutti grazie a tutti e forza SOMBRE! grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti